Oggi invece si straccia le vesti perché le opposizioni chiedono chiarezza. Ancora più odioso troviamo il doppiopesismo che la sinistra fa sul conflitto di interesse. Per anni ci avete detto che questo conflitto di interesse riguardava il centrodestra e Berlusconi. Eppure l'evidenza degli interessi del Presidente del Consiglio Berlusconi, fino a un momento prima grande imprenditore, è stato in sé un fattore di grande trasparenza per i cittadini. 220 milioni di voti in vent'anni sono stati una risposta chiara anche a calunnie politiche e guerre giudiziarie. Concludo Presidente, ora un governo non eletto da nessuno guarda con fastidio a chi chiede chiarezza, a chi invoca di risolvere il conflitto di interesse, secondo la regola della doppia morale che troviamo davvero inaccettabile. Grazie, passiamo all'interrogazione 3.904, l'onorevole Torina, Bianchi ed altri, sulle iniziative volte a rafforzare le politiche per lo sviluppo del mezzogiorno, anche attraverso l'attivazione degli strumenti di monitoraggio degli obiettivi raggiunti. Onorevole Pagano, un minuto, prego. Grazie Presidente. Il nostro partito da un po' di tempo sta lavorando in maniera concreta per riportare il mezzogiorno nell'agenda del Paese. Era un'irrilevanza che francamente dava fastidio e che soprattutto non faceva cogliere il vero problema, e cioè che il Sud è una risorsa. Non è mai stata trattata così, è sempre stata vista in una logica assistenzialistica come un problema da risolvere concedento, prebente, che ovviamente poi alla fine il risultato era quello sotto gli occhi di tutti, cioè l'assistenzialismo divenuto mentalità. Noi invece siamo di un concetto completamente diverso, abbiamo deciso di cancellare completamente tutto questo e da mesi non facciamo altro che parlare sempre di politiche di tipo diverso, di tipo produttivo. Vanno in questa logica, per esempio, all'interno della stabilità, l'introduzione, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali di strutture in mezzogiorno, oppure le estensioni fino al 2017 per il contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privati di PMI delle imprese meridionali.